Siamo adatto Gesù Cristo, un saluto carissimo a voi che ascoltate. Gesù nel Vangelo di oggi, parlando ai Suoi discepoli, dice quello che sta per accadergli, ma anche della preziosità e della unicità del tempo che Egli ha vissuto con i Suoi apostoli, con la gente, i discepoli, nel tempo dell'Incarnazione. Desidererete vedere questi momenti, ma non sarà più così. Le avvisa che non sarà più con loro, non sarà più con loro nello stesso modo. Ora tutti possono andare da Lui, chiedere, ascoltare, pensare. È il tempo del dubbio, è il tempo della decisione, il tempo dell'opportunità. La gente può andare da Lui di giorno, di notte, può ascoltarlo, può chiedere. Si può interrogare su quello che è la fede, cioè è Lui il Messia, colui che era stato predetto, è Lui che deve salvarci dai peccati del mondo, è Lui che si deve guidare perché è Dio con noi, l'Emmanuele. Ma a questo tempo, dice Gesù, sta per finire. Sta per finire e se ora è concesso a tutto cercarmi e trovarmi, perché io sono disponibile, dopo non sarà più così. Verrà il tempo, dice, in cui diranno, eccolo qui, eccolo là, non seguiteli, non andateci, perché io non sarò in questo, quel luogo e voi potrete raggiungermi, ma sono io che mi muoverò come il lampo, come le scintille, da una parte e dall'altra e mi vedranno. Ma la differenza è che Gesù verrà visto nel luogo che il Signore sceglie per manifestarsi e non è più il contrario. Non c'è più la possibilità di muoversi e andare a Lui, ma è Lui che va e appare a chi vuole. Questo fatto, dice Gesù, avverrà, Io sarò ancora con voi, ma in un altro modo. Ma prima, e ci saranno i giorni della passione, il figlio dell'uomo dovrà essere ucciso sulla croce. Il tempo dunque che sta per finire è il tempo del Dio che cammina con noi e poi diventa il tempo del Dio che viene raggiunto per fede e l'apparizione del Cristo risorto avverrà solo alla sua condizione. Cioè, Gesù non è che se compare in un luogo tutti lo vedono, lo possono vedere solo coloro a cui Lui, Egli, si mostra. Non c'è più una visione materiale e, come dire, indipendente dalla volontà o dal cuore di chi lo vuole guardare, di chi lo vuole seguire o meno. Gesù si mostra e si collega alla vista e al cuore solamente mediante la sua volontà e la nostra fede. non che la nostra fede possa provocare una sua apparizione, perché questa è una sua iniziativa, una sua libertà, ma la nostra fede è necessaria, molto necessaria, per poter essere collegati con Lui. Il concetto di questo è molto chiaro quando Gesù compare prima ai discepoli, poi dopo agli apostoli, e poi a diverse centinaia di persone, come gli atti e le reti di San Paolo ci dicono. Ma compare a chi egli vuole, a coloro che lo meritano, e solamente per grazia e per grande misericordia compare anche a Tommaso che aveva dubitato. E in questi primi tempi Gesù compare perché deve rafforzare la fede nel risorto, così titubante, così debole, così bambina, così fiacca. Ma quello che Gesù dice a Tommaso riguarda tutti, anche noi, oggi. Perché mi hai veduto, tu hai creduto. Beati coloro che invece crederanno senza aver visto, o che hanno creduto senza aver visto. Coloro che credono senza vedere. Che vuol dire io mi affacerò ai cuori dei miei fedeli per mezzo dell'organo della fede. Questa virtù, questa forza, questa potenza di fiducia in me che io metto nei loro cuori è il ponte che collega l'invisibile e rende presente il mio cuore nel loro cuore. Il mio spirito nella loro anima. Gesù dunque si collega per dono a noi, per misericordia, per grazia, e noi con l'atto di fede apriamo la porta alla volontà della sua presenza. Una disponibilità nostra, ma soprattutto un volere del Cristo che si collega a noi per il dono del suo amore. Così le apparizioni del Signore compaiono e ci sono e ci saranno durante i secoli della storia della Chiesa ad anime privilegiate che egli ha voluto visitare per qualche motivo particolare, sempre a beneficio di tutti. apparizioni, messaggi, esortazioni di Gesù e dei Santi e della Madonna in particolar modo sono il modo in cui il cielo si affaccia sulla terra ma si collega a un'umanità che ha il cuore aperto alla fede. è questo ponte, questa giunzione che Gesù vuole creare. Il mondo che non crede non vedrà perché quando tutti vedranno perché Dio si manifesterà nel Figlio sarà il giorno del giudizio e tutti vedranno il Cristo il segno della sua croce ma per la gioia dei credenti che verranno appagati da questa visione, da questa apparizione, da questa manifestazione ma terrore, giudizio per coloro che lo hanno rifiutato lo hanno rifiutato nella dottrina lo hanno rifiutato come Dio lo hanno rifiutato nella carità omessa, impedita, contrastata. Dunque la manifestazione per tutti ci sarà ma sarà quella dell'ultimo giorno. Le manifestazioni particolari ci possono essere ma quello che si manifesta in noi ed è la cosa più importante è questa tensione di fede tra noi e Lui. E se noi siamo attenti a ciò che accade dentro al nostro cuore sentiamo quelle che sono i movimenti della Sua presenza che pacificano l'anima, schiariscono la mente, ci illuminano, ci danno la forza per camminare nel giorno in cui noi stiamo vivendo, in cui noi stiamo andando, per camminare con Lui. non temere. Io sono con Te tutti i giorni fino alla fine del mondo con voi. Questa modalità è quella che viene annunciata dal Cristo. È il Cristo risorto che non ha bisogno e ne vuole in modo ordinario essere davanti a noi con la visione, ma essere contemplati con gli occhi dell'anima dentro il nostro cuore. Egli ci accompagna e nulla di quello che accade nel mondo è più forte di Lui. Dio vi benedica.